Il 14 febbraio, abbiamo scelto il 14 febbraio perché siamo inguaribili romantici e noi il 14 febbraio, cos'è la cosa più romantica di tutti? Il piano shock, notoriamente romanticissimo, addirittura qualcuno lo mette anche nei baci perugina, finalmente dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto di preparazione, di norme, commissari, le opere pubbliche, sarà il testo che consegneremo fisicamente al Presidente del Consiglio e agli alleati di governo. Allora io qui ho un punto semplice, ma se siamo tutti d'accordo su Italia Shock, se tutti dicono che vanno sbloccati i cantieri, se tutti dicono che è giusto fare questo lavoro perché serve per il PIL, serve per recuperare posizioni, serve per avere lavoro e non reddito di cittadinanza al sud, serve per avere investimenti nel domani. Perché non partiamo da un primo piccolo banale gesto? Rimettere in funzione l'unità di missione sull'edilizia scolastica e sul dissesto idrogeologico che il governo Conte I ha incredibilmente cancellato come primo atto. L'edilizia scolastica è la priorità, sono i tetti sotto i quali stanno i nostri figli. Rimettete in funzione quella struttura che stava funzionando. Rimettetela in funzione subito. 14 febbraio il piano Shock sarà formalmente inviato, clic e come vedete stiamo facendo l'agenda nel senso tecnico.